Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per commentare Moon Knight, la serie che uscirà oggi 30 marzo, mercoledì, e che uscirà da qui in avanti per ben 6 mercoledì, 6 appuntamenti con questa serie. Allora ragazzi, io vi invito a guardarla, quindi piccola parte uno spoiler, perché c'è un ottimo protagonista con un Oscar Isaac che interpreta un ruolo folle di un personaggio che ha una doppia personalità, scusate da quante persona, e che appunto ha dei poteri anche abbastanza particolari, un villain che mette a disagio e secondo me questo basta. Perché mette a disagio? Beh, guardate Moon Knight e tornate adesso per la parte spoiler. Allora ragazzi, perché mette a disagio Ethan Hawke, il suo personaggio? Perché ragazzi, per come viene introdotto, di far capire quanto può incutere timore una persona. Perché lui beve, spacca il bicchiere di vetro, prende i cocci, se li mette nelle scarpe e inizia a camminare. Secondo me questo è già simbolo di quel che è il suo potere e di come appunto lui probabilmente con il suo potere che ha sicuramente non soffre così tanto queste cose per esempio. E non so perché lo fa, probabilmente è statico, vuole sentire quel dolore, magari non lo sente e lo vuole sentire. Inizi già qui a ragionare di un ottimo metodo, secondo me usato dalla Marvel e dal regista di questa serie, per far sì che lo spettatore rimanga incollato allo schermo già dai primi minuti e che non si annoi. Perché secondo me le serie Marvel in precedenza hanno sofferto anche molto di questo. Infatti gli inizi così sono molto più tipici nelle serie. Hawkeye, per esempio, iniziava con la caduta di New York in Avengers 2012. Quindi secondo me queste cose che fanno incollare, queste scene in sé, scusate, fanno incollare lo spettatore allo schermo. Sono importantissime, ok? E quindi sono molto contento che un villain, dai suoi primissimi minuti di introduzione, ne abbia già messo così tanto a disagio e inquietudine. E poi la palla, ragazzi, durante l'episodio passa ovviamente a Steven Grant, che in questo caso è questo personaggio che soffre probabilmente di sonambulismo, dorme poco, si lega al letto perché comunque ha paura di alzarsi e fare danni, mette un nastro blu alla porta per vedere se magari aprendola si toglie, appunto, lui sonnambulo vada a fare danni. E vediamo che comunque è abbastanza sbadato, sempre in ritardo, un secondino al lavoro, fa lavori manuali, viene vessato da colleghi e da superiore, infatti lui vuole diventare una guida ma è stato rifiutato per ben tre volte, però poi dopo vediamo che lui comunque una vita sociale ce l'ha e se la cura. Perché vediamo che la collega dice il mio tour è quasi finito, alle sette di domani vogliamo andare a mangiare la carne e quello dice va bene ma non t'ho invitato, però lui dice sei un tipo molto simpatico, infatti poi la superiore viene e dice oh sei proprio un buon partito, cioè per farvi capire, no? E già lì non capisce un cazzo perché se lui dice che non l'ha invitato a cena, chi cazzo è stato? E questo diciamo già ti fa, cioè ti mette già nel meccanismo della serie. E secondo me è molto importante perché in una serie del genere o tutto è collegato male o tutto è fatto per bene nella costruzione. Secondo me in questo caso hanno costruito molto bene. Questo perché? Perché poi dopo lui torna a casa, dorme, lui praticamente segue anche tra virgolette questo programma per stare sveglio e per poi dopo dormire solamente cinque ore, si addormente e lo vediamo che si risveglia nelle Alpi e l'improvviso è tutto smascellato, tutto pieno di sangue e non capisci perché. Di fatto che si trovi in questo paesino nelle Alpi, ci viene detto dopo che sarà nelle Alpi, in cui appunto lui è ricercato da questi altri mercenari, no? E arriva al centro di questo paesino e vediamo Arrow, il villain interpretato da Itanok, che praticamente sta facendo scegliere ad Ammit, questa dea egiziana, il destino delle persone che si vorranno sottoporre appunto per dimostrare quello che è il potere del villain. E quindi quel bastone antico che avevamo visto quando lui ha spaccato il vetro perché l'ha spaccato col bastone, lo vediamo messo nelle braccia dei vittime perché alla fine non sanno se moriranno o viveranno, viene fatto oscillare e se la bilancia tatuata sul suo braccio e verde continueranno a vivere perché nella loro vita presente e future, e questo è un nome molto importante, nella sua vita, nella vita della vittima presente e future, se c'è stata colpa, se ci sarà colpa, appunto lui morirà. Se non ci sarà colpa, sarà verde, mentre se ci sarà colpa invece sarà rossa. Infatti, ad uno sarà verde, ad una donna anziana, scusate, ad una donna anziana appunto sarà rossa e quindi morirà subito, e infatti la gente è in disibilio. Solo che poi i mercenari mandano di la mocca e dice, e lui ancora qua. Scopriamo che praticamente questa è una setta a tutti gli effetti, si inchinano tutti, perché tipo dice, viva, ammette una cosa, non mi ricordo bene perché poi l'ho visto pure in inglese, non mi ricordo bene cosa dice precisamente, e tutti si inchinano, lui ha un po' di più di ritardo, lo sgamano, e scopriamo che lui ha questo scarabello umano che non sa come, ma lo vorrebbe anche consegnare per evitare problemi, ma lui non ci riesce. Infatti cerca in tutti i modi di riuscirci, ma non ce la fa, e se lo tiene sempre lui. Difatti poi inizia un inseguimento, e quando è la stretta c'è un taglio, c'è un taglio di inquadratura, lo vediamo tutto pieno di sangue, e così via, parte questo inseguimento, lui sale su un camion, anche lì nelle parti più, in cui lui sta più in difficoltà, in cui sta per morire, sentiamo anche questa vicina che dice, stupido, stupido, è tornato lo stupido, no? E tu dici, ma che cazzo sta succedendo? E quindi automaticamente ti viene quella cosa, cioè, proprio quell'appetito per dire, fammi capire, devo capire qualcosa di questa cazzo di serie. E infatti non capisci una minchia, perché poi dopo ci sono questi tagli che fanno vedere che lui comunque, man mano, diventa sempre più insanguinato, e quindi tu non riesci a capire bene cosa cazzo, cosa cazzo succede. Sta di fatto che poi, lui, sta di fatto che poi, lui comunque riesce a scappare, e poi dopo si risveglia nel sogno, quindi lui dice, ah cazzo, ma allora è semplicemente un sogno, però lui quando si risveglia, è notte, ok? E vede dall'acquario, perché lui ha un pesce monopinna, che se no si chiama gas, vede dall'acquario che ha tutte e due le pinne, e dice, come è possibile? Automaticamente, lui inizia un attimo a capire, perché vediamo che va nel negozio d'acquari, nel negozio d'acquario, se vabbè, nel negozio d'animali, e la commessa dice, senti, tu sei venuto ieri, se lo vuoi cambiare, cambialo, però comunque non ho tempo per queste cazzate, che è un pesce monopinna, i pesci di sabbia, addirittura dice, e quindi automaticamente tu inizi a dire, ok, probabilmente tutto ciò che sto vedendo è vero, nel senso che lui ha una doppia personalità, quando non sa di avere il potere è Steven, quando ha il potere è Mark, perché appunto viene chiamato anche da il possesso a Mark, no? durante la scena di inseguimento, e quindi continua a non capire un cazzo di tutto quello che sta succedendo, e lui pure, comunque sembra molto interdetto, e va all'appuntamento, perché si ricorda che il giorno dopo sarebbe dovuto andare all'appuntamento, lui va in questo ristorante di carne, si siede, aspetta, fa quasi chiudere la cucina, chiama la ragazza, dice quest'ultima, ah, ma hai chiamato dopo due giorni, oggi è domenico, oglione, non è venerdì, lui tutto così, tutto oddio, perché, perché, ma quando mai cazzo dici, non è domenico, e così via, e tu dici, cazzo, cazzo, fatemi vedere il costume di Moon Knight, perché alla fine tu stai lavori per quello, infatti è così, perché comunque, ragazzi, allora, quello che non mi è piaciuto particolarmente, anche se è giusto, è che per evitare la violenza, hanno messo questi spedienti narrativi, in cui tagliano la scena, in cui lui è Moon Knight, e si ritrova tutto pieno di sangue, però, vattene vedere Moon Knight, Cristo, lo tanto lo so com'è fatto, se me lo mette al primo minuto, me lo mette al cinquantesimo, è uguale, infatti quella cosa non mi è piaciuta particolarmente, però, è un buon spediente, devo dire la verità, ce l'hanno messo nel culo per bene, perché poi ce lo mettono in tanti particolari modi, però, questo in particolare è molto carino. Lui, comunque, è tutto triste, l'altro chiama sempre la mamma, mi sono scusato di dirvelo, e questo è un particolare che subito ho notato, perché, come è possibile che una mamma non risponda subito? Perché tutte le mamme, cazzo, rispondono subito, è uno stereotipo e così via, però, è la verità, e quindi, se proprio la sua mamma, sapendo che anche il suo figlio ha questa problematica e della doppia personalità, non risponde al telefono, sono due delle cose, o è morto e lui crede che sia viva, oppure scomparsa, o non l'ha mai avuta, non lo so, magari chiama un numero, a cazzo. Sì, di fatto, è poi lui torna a casa, e vede che sul pavimento ci sono dei segni, sposta il tavolo, sale sopra, vede che c'è una chiave, è un telefono molto vecchio rispetto al suo, con cui ha chiamato, appunto, la ragazza con cui si doveva essere al ristorante. Difatti, ragazzi, cosa succede? Ci sono queste, tipo, 300 chiamate perse da una certa Laila, e una, o forse un po' di più, però ne ho vista solo una, di un certo Duchamp. Non fa in tempo per chiamare Laila, che Laila chiama lui, dice, Mark, sei vivo? E dice, sì, sto bene, ma non ho capito, chi crede che io sia, e così via. Laila, tipo, si sente, cosa cazzo, cioè, si sente che comunque è interdetta, no? E allora stacca il telefono. Allora, qui, ragazzi, esce una delle più belle scene, secondo me, di una serie Marvel, perché io ci sono rimasto tantissimo. Sentiamo le voci, la sua testa, dire, non indagare, non devi indagare, va allo specchio, tipo molto Goblin, di Norman Osborn, in cui Norman, appunto, si affaccia allo specchio, e il cattivo Norman dice al buono Norman, lo dobbiamo uccidere, Spider-Man! Invece qua dice, non indagare, non devi indagare, testa ferma, non devi indagare, infatti, c'è lui che lo guarda, tipo tutto storico, tutto strano, per comunque evidenziare il suo comportamento sbagliato, lui esce dall'appartamento, scappa, perché poi inizia a togliersi la corrente, e così via, il, scusate, l'ascensore scende fino a piano terra, e c'è questa figura, egiziana, sicuramente, di un dio egiziano, che si avvicina piano piano piano, che assomiglia molto a un corpo di uomo e la testa di un corvo. io so, ragazzi, che si chiama Konshu, questa divinità, che appunto, è entrata all'interno di Steven, perché ho recuperato una storia, ma comunque, si evince praticamente dai trailer, quindi non è spoiler, del futuro, anche perché non so nel futuro, che cazzo succederà di Moon Knight, però vediamo, è semplice tutto spaventato, spaventato, e poi è una vecchia, c'è un'anziana, la signora anziana, la vorella, lei dice, ho perso la lente a contatto, questa ce l'abbiamo vista paro paro nel trailer, infatti, sono stato un po' impiazzato pure per questo, però poi vediamo che sale, la signora anziana, li fa salire al quinto piano, e riappare di nuovo Konshu, piano piano, poi lui, quando se lo vede davanti, si risveglia sull'autobus, e dici, ok, allora, o è diventato di nuovo Moon Knight, oppure questo ci sta a pie per culo, e invece no, perché nell'autobus, innanzitutto, fa delle scene incredibili, le sceneggiate, le virgolette, perché fa, oh, 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 e tutti quando lo guardano solo, e giustamente dice, ma questo è matto, effettivamente, ma, lui scendendo, vede che c'è il personaggio di Arrow, cioè, Ethan Hawke, e quindi automaticamente dice, cazzo, lui è vero, era l'uomo delle Alpi, e quindi poi lui entra, e dice, c'è una guardia, dice la guardia, senti, c'è uno che mi pedina, non lo devi fare entrare, lui dice, ma è museo gratis, niente posso fare entrare, dai, dai, per piacere, arriva donna, che è la superiore, che gli dice, oh, senti, va a fare questo, va a fare questo, e ha detto, dammi un secondo donna, ok? Dammi un secondo donna. Comunque, beh, lui va nel museo, e l'improvviso esce appunto, il personaggio di Arrow, che lo ferma, e dice, e praticamente lo giudica, perché dopo un discorso, gli fa il giudizio sulla sua vita futura, è presente, è passato ovviamente, e lui, alla fine del giudizio, dopo che c'è stata questa oscillazione, oscillazione del bastone, ragazzi, dice, c'è del caos, in te, è un tipo, che significa, perché non esce né verde, né rosso, c'è del caos in te, quindi probabilmente, la dea egiziana Ammit, che è la dea che appunto, si trova all'interno, di Arrow, ha riconosciuto, probabilmente davanti a sé, c'è uno degli altri dei, che l'ha tradita, perché praticamente, il discorso che fa, Idanuk, ha il buon, ha il buon Steven, è questo qua, che in passato, la dea Ammit è stata radita, e quindi tutte quelle catastrofi, che sono accadute, sono accesse proprio per questo, e quindi, tu dici, ok, ci stanno spiegando un po' la lore, di questi dea egiziani, che stanno entrando all'interno delle persone, sta di fatto, che poi, lui se ne scappa, e nello scappare, non scappare, l'altro si fa notte, e, automaticamente, lui, lui, si va a, rifugiare all'interno, delle sale, del museo, e, quando appunto è notte, sentono i rumori strani, la gente comunque, se ne sta andando, e, all'improvviso, vediamo che, escono tipo, delle iene, iene po', però comunque, dei cani molto arrabbiati, e, con appunto, il pelo nero, con il pelo nero, e che, con gli occhi tutti, tutti gialle, e così via, da demoni, insomma, i demoni egiziani, e lui comunque, viene inseguito poi, da questi demoni, perché lui comunque, c'ha lo scarabbeo, e allora, lui è perseguito, da probabilmente, quelli che sono i sudditi, della dea Ammit, ed è per questo, che va nel bagno, e c'è, un fantastico scontro, tra Steven, e Mark, finalmente, Mark si rivela, dice Steven, io sono l'unico, che ti può salvare, ok? Sono l'unico, quindi, vedi un po' te, o mi fa entrare, o so cazzi tu, e moriamo, difatti, lui dice, va bene, va bene, ti permette di entrare, dentro di me, e c'è la scena, in cui lui, prende questa Iena, questo Anubi, non so che cazzo sia, col vestito, col costume, finalmente, di Moon Knight, che devo dire, vediamo, devo incontrare ancora meglio, ma non mi dispiace, e inizia a picchiare, e poi c'è, la scena in cui lui, si gira, dopo aver pestato, questa bestia, dell'antichità, dell'antichità egizia, si gira verso la telecamera, e cammina, e finisce l'episodio, porca puttana, mi è piaciuto, mi è piaciuto, non sono stato dispiaciuto, di questo episodio, bello, spero gli altri saranno, belli quanto questo, anche se hanno detto, che calo un po', ok, quindi, dobbiamo vedere un po', quando avevo detto un po', però, va bene ragazzi, secondo me, un buon pilota, penso che voi siete d'accordo con me, e se vi è piaciuto il video, lasciate un bel mi piace, un commento, e iscrivetevi ragazzi, così, siete sintonizzati su tutto ciò che è pubblico, perché pubblico non solo di Marvel, ma anche di Juve ogni tanto, e anche di manga e anime principalmente, quindi noi ci vediamo, ad un prossimo video, iscrivetevi, mettete un like, un commento se volete, se vi è piaciuta la puntata, scrivete i commenti, e cosa vi è piaciuto, e cosa non vi è dispiaciuto, per me è stato pulito abbastanza tutto, il trip si riesce a seguire, non è nulla di confusionario, comunque la Marvel, noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi, e ci vediamo tutti belli, ciao!